Sono tornati in strada gli operai della Whirlpool. Dopo l'assemblea in fabbrica, un gruppo di Tutte Blu ha iniziato un corteo scortato dalle forze dell'ordine lungo Viargine. Il corteo ha poi bloccato un accesso dell'ingresso autostradale della 3. Ancora ad oggi stiamo aspettando che ci sia futuro e continuità lavorativa per lavoratori ex Whirlpool. Siamo come dire da sempre costretti a protestare per avere tavoli di riunione perché siamo in una fase in cui è necessario che il prefetto, il presidente della regione e il sindaco di Napoli prendano un'iniziativa forte nei confronti del governo. Sono partiti i licenziamenti di Whirlpool e ci hanno detto che stavano lavorando a questo consorzio. Ancora ad oggi non si parla di produzioni, non si parla di progetto industriale ma sempre di problematiche burocratiche. Intanto questa mattina a Roma si è tenuto un incontro presso il Ministero del Lavoro con il governatore Vincenzo De Luca che ha incontrato anche il ministro Andrea Orlando. Si è parlato della platea di disoccupati di lunga durata. Il presidente ha rappresentato la peculiarità della situazione campana e ha chiesto l'attivazione di procedure di stabilizzazione attraverso un ruolo speciale ad esaurimento per i lavoratori idraulico forestali e per le quote residue degli LSU regionali. Il ministro ha assicurato che gli uffici saranno impegnati per individuare le forme più utili per lo sblocco occupazionale dei lavoratori.